Metti giù quel telefono! Pronto sorveglianza? Buon Natale a tutti! Ciao a tutti amici, benvenuti alla nonna puntata di Un Minuto di Cinema con Liguori. Oggi parliamo di Norma You Must e che ogni anno è riproposto ogni Santa Vigilia di Natale, una poltrona per due, commedia diretta da John Landis nel 1983 con la coppia comica protagonista costituita dagli attori Dan Aykroyd ed Eddie Murphy. Questo film andrebbe visto tutto l'anno perché è una satira tremenda sugli effetti devastanti del capitalismo, sui suoi divari, ben analizzati già da una colonna sonora che non vinse l'Oscar ma ne fu candidata. Grazie a tutti! Grazie a tutti!